PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici. Ciao, stai ascoltando la nuova puntata di PCT Facile, il primo podcast per gli avvocati tecnologici sul processo telematico e il mondo digitale. Io sono Francesco Posati e ti do il benvenuto. Tra pochi giorni debutta il PAT, il processo amministrativo telematico e Isabella Maria Stoppani, intervenuta al forum PA di maggio scorso, ci illustra alcuni aspetti operativi. Copriamoli insieme. Per chi non è un avvocato amministrativista vorrei chiarire qual è l'attuale sistema. Oggi noi abbiamo da alcuni anni l'obbligo di un doppio deposito per quanto riguarda qualunque tipo di documento dall'iscrizione al ruolo, tant'è che noi dobbiamo depositare in cartaceo tutto, quindi comprese in Consiglio di Stato, sette copie, eccetera, eccetera, e anche inviare a mezzo PEC dopo aver ottenuto un numero di protocollo che si ha a seguito del deposito cartaceo in PEC tutto quanto al sito della giustizia amministrativa ai differenti indirizzi attribuiti come PEC alle sezioni. Sistema, devo dire, particolarmente pesante e faticoso perché immaginate, anche da un punto di vista economico, insomma, si raddoppia tutto. Con il decreto presente al Consiglio dei Ministri 40 di quest'anno, del 16 febbraio, è stato introdotto, è stato proprio il SIGA, che è il Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa, che fa, diciamo, il pari più o meno con quello che è il SICID, cioè il Sistema Informativo del Contenzioso Civile Distrettuale. È vero che si è fatto tesoro, io penso, dell'esperienza del processo civile telematico e anche, da un certo punto di vista, delle sue criticità. Io, ripeto, non ho fatto sperimentazione e mi hanno detto i colleghi che forse la sperimentazione è durata troppo poco perché è già cessata il 23 maggio. Teniamo presente che dovrebbe partire a pieno regime il 1 luglio e, da questo punto di vista, già si chiede da più parti che venga almeno autorizzato per un certo periodo ancora l'utilizzo dei due sistemi per evitare problemi. Posso comunque, perché è abbastanza divertente, citare una sentenza del Tar Campani alla 1063 del 2016, nella quale si è autorizzata una rimessione in termini, in quel caso particolare, di una notifica per pubblici proclami, ma è divertente la motivazione perché dice che questo è stato consentito, vista l'incertezza applicativa sui sistemi di, diciamo, tecnologie informatiche del processo amministrativo in attesa dell'entrata in vigore del processo amministrativo telematico. Quindi, tutto sommato, possiamo avere una speranza, nel senso di direi se dovessimo avere dei problemi per quanto riguarda l'applicazione del processo, quantomeno un atteggiamento di scusante o comunque di possibilità di rimessione in termini o altro, di errore scusabile, nell'applicazione è già stata prevista in una sentenza di un giudice amministrativo. Vorrei solo mettere in evidenza alcuni dati positivi rispetto nel confronto fra il processo amministrativo telematico, almeno in fieri, perché ovviamente non l'abbiamo ancora sperimentato in maniera obbligatoria, anche perché quello che volevo dire, la sperimentazione che è stata prevista attraverso il sito della giustizia amministrativa o altro, era tutta fra virgolette fasulla, nel senso che non si parlava di atti reali, quindi non abbiamo potuto vedere che cosa succede, lo vedremo dal 1 luglio. Diciamo che però sin da adesso si può dire che c'è in TAM una grande differenza che è quella a favore del processo amministrativo telematico della maggiore attenzione alla sicurezza dei dati, nel senso che già nelle regole tecniche del decreto presente nel Consiglio dei Ministri si parla esplicitamente e si rinvia al rispetto delle norme del codice di protezione dei dati personali e del codice dell'amministrazione digitale. Ci sono proprio gli articoli, se non ricordo male, 8 e 9 dell'allegato 1 al decreto, che fanno riferimento agli articoli dei due codici che devono essere rispettati nell'applicazione del processo amministrativo telematico. Da quello che mi dicono però, ripeto, io non sono certo un'esperta di processo civile telematico, effettivamente pare che non ci sia da questo punto di vista una previsione normativa per quanto riguarda il processo civile. L'altra differenza e sicuramente altro aspetto molto interessante è quello che in caso di problema nell'invio attraverso il modello, il modulo che assomiglia molto poi in realtà ai moduli che sono stati previsti per il processo amministrativo telematico, assomigliano molto al famoso modulo di invio in PEC che viene utilizzato attualmente nella forma di invio tramite PEC agli indirizzi delle varie sezioni. C'è però previsto l'inserimento diretto, io dico inserimento dati che non mi piace l'upload, comunque l'inserimento diretto da parte dell'avvocato nel sistema, cioè cosa che non è sicuramente prevista nel sistema del processo civile nel quale solo il magistrato e il cancelliere può intervenire direttamente, l'avvocato in caso in cui, e deve provarlo però, non si è riuscito o abbia dei problemi anche per quanto riguarda la pesantezza degli atti o altro, può inserire direttamente seguendo le istruzioni che sono sul sito della giustizia amministrativa nel sistema. Altra cosa estremamente positiva è l'obbligo di inviare alla PEC dell'avvocato entro 24 ore l'accertamento sull'avvenuta ricezione con tutto quello che riguarda proprio la, non solo la ricezione, l'accettazione e la consegna come nel PCT ma proprio una ricevuta fatta dall'ufficio. L'altra cosa che invece mi dicevano non particolarmente comprensibile è perché nel processo amministrativo telematico si possa utilizzare solamente per la firma digitale è il sistema PADES e non quello CADES. Non credo di dover spiegare a voi che lo sapete meglio di me la differenza, comunque si tratta di due sistemi di firma digitale, in un caso il documento viene compresso e nell'altro caso invece mantiene la stessa dimensione e sinceramente non si capisce perché mentre nel processo civile siano ammesse entrambe, nel processo amministrativo no. Stai ascoltando PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici. Ulteriori punti di approfondimento. Come ha evidenziato l'avvocato Stoppani, il PAT si differenzia dal processo civile telematico poiché ha maggior riguardo alle norme del codice privacy, del CAD e alle regole tecniche sui documenti informatici e sulla loro formazione contenute nel Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014, sulla gestione protocollo e conservazione contenute nel Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013. In aggiunta il deposito si potrà effettuare tramite PEC e la tempestività del deposito è data dalla ricevuta di accettazione del proprio gestore, la prima PEC, e non dalla consegna al servo del gestore del Ministero come succede nel processo civile telematico. Poi la segreteria inoltre ha entro le ore 24 successive una PEC di registrazione deposito con un numero di protocollo univoco. In rinvia residuale è ammesso il deposito tramite upload e la testività è data dalla registrazione del sistema informatico della giustizia amministrativa. Sulla richiesta copia è prevista un'espressa deroga. A differenza dell'esperienza del processo civile telematico, gli avvocati possono estrapolare solo copia uso studio dal SIGA e le copie conforme potranno essere richieste online alle segreterie sul portale della giustizia amministrativa. Sulla procura all'eliti, se questa è rilasciata sul supporto cartaceo, l'avvocato dovrà attestarne la conformità secondo le regole tecniche del CAD, indicando quindi il riferimento temporale e l'impronta informatica. L'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio del Ministro, 40 del 2016, le regole tecniche del processo amministrativo telematico, sancisce definitivamente l'ammissibilità delle notifiche telematiche in sede del PAT, agli indirizzi PEC censiti nel registro PA, ponendo fine alla questione giurisprudenziale amministrativa, che era aperta da un po' di tempo. In tema di gestione, conservazione e accesso agli atti ai fascicoli informatici processuali, il responsabile della conservazione è individuato nel Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, anche responsabile del SIGA. Il sistema informatico protocollerà e indicizerà tutti gli atti e documenti depositate all'interno del fascicolo informatico. Le operazioni di accesso dal fascicolo informatico consentite ai soggetti abilitati sono registrate e conservate per 5 anni dalla conclusione del procedimento in un apposito file di log che riporta l'indicazione del codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'accesso, il riferimento al documento informatico consultato, modificato o prelevato nell'ambito del sistema documentale, la data e l'ora di accesso. Arriviamo quindi alle conclusioni. Come anche ci ha ricordato Ines Pisano nella puntata 20 del nostro podcast, il PAT ha fatto tesoro dell'esperienza del processo civile telematico e delle sue grandi lagune, che vanno a incidere sulla inalterabilità e integrità dei documenti informatici nei fascicoli elettronici del settore civile. Positiva è l'adozione delle regole tecniche, quindi del CAD e del codice privacy. Inoltre, la breve sperimentazione non costituirà un ostacolo, poiché concederà con una maggiore tolleranza da parte di tutti i soggetti coinvolti, quindi anche dei magistrati. L'unico rammarico che sottolineo in questa sede è l'assenza di uno standard unico dei vari processi civili, amministrativo e poi il tributario. Auspico che si arriverà quindi a un giorno a parlare di processo telematico e non di processi telematici, in un contesto, quello informatico, in cui lo standard deve essere il modello di partenza, non una deroga. Oggi concludo qui questa puntata, ti saluto e ti ricordo che viviamo il futuro digitale. Ciao!